benvenuti o bentornati sul canale sono arigazia e oggi vi presento un backup tattico un coltello combat di estrema razio e vi faccio vedere come arriva praticamente la confezione sto parlando dello scout 2 stonewashed allora ragazzi eccolo qua confezione classica di estrema razio con il nome del coltello scout e 2 sono voce del codice a barra uguale classica confezione bustina della estrema razio con il coltello dentro tagliandino ovviamente che certifica il lotto la garanzia eccetera e i classici eccoli qui manutenzione ordinaria eccetera eccoli qua allora andiamo a vedere questo scout che ha un fodero davvero davvero particolare per ambidestri e potete vedere guardatelo fascette per l'attacco molle a molto molto leggero fodero ora andremo a vederlo perché è pazzesco questo è il coltello eccolo qua questo è lo scout 2 stonewashed adesso vi do due misure subito eccetera allora passiamo subito alla dorsale che sono 5 mm di spessore il peso sono 145 grammi veramente veramente maneggevolissimo è un coltello che in mano non c'è non ci sente la manicatura è la classica for prene stick tang come costruzione con codolo esposto potete vedere non è proprio uno school crash appuntito ma questa specie di quadratino che esce dalla manicatura o l'acciaio ln 690 voler 58 hdc la lama come potete vedere sembra una spera point perché visto così sembra una spera point però non lo è ragazzi secondo me non lo è anche perché c'è un contro filo che va allungarsi molto il qua verso la punta però così sembrerebbe una spera point ma secondo me non lo è lunghezza della lama ragazzi sono 11,8 centimetri la lunghezza totale sono 23,2 centimetri veramente un gioiellino in mano lo svaso qui sulla sulla manicatura che c'è qui sulla sinistra e sulla destra serve proprio per metterci da una parte il il pollice e dall'altra l'indice vedete perché una volta che lo si impugna così va in automatico in reverse combat alzino eccolo qua ragazzi è ad una velocità incredibile questo coltello perché arriviate qua giù e quando siete qui sacchi eccolo qua coltello che ovviamente ci si può fare tante cose si si può spaccare le legna si può fare i ricciolini quello che volete però il suo uso si capisce subito qual è il suo utilizzo secondo me cortello davvero molto 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 particolare e niente adesso vi faccio vedere anche il foderino perché veramente tanta roba allora il suo foderino suo foderino veramente fatto le minime particolari mi piace molto molto minimale ma tanta roba scollo per le acque piovane eccolo qua si è detto ambidestro ovviamente si può inserire il coltello così o non cambia nulla non esce nulla non fa rumore non fa rumore ragazzi è stravitoso un aggancio abbastanza robusto e con una doppia sicura anche nello sgancio come potete vedere poi vedete non è che esce qualcosa o si perde o si nulla una volta che poi si può mettere farò vedere su un altro qualcosa facile perché bisogna alzare questo eccolo qui allora lo alziamo allora per chiuderlo un pochino dà fastidio questa linguetta qua perché tutte le volte si va a incastrare qua però a star sarlo un po e poi spingere ecco qua è un po difficoltoso inserirlo perché questa linguetta qui si incastra parecchio poi una volta però passato si rimette alla grande sopra eccolo qua allora un po di fatica perché c'è domani sole allora questo è un gibernaggio va bene come potete vedere eccolo qua fissato a un gibernaggio ok eccolo qui qui ovviamente sì ci sono qua vari caricatori eccetera questo coltello viene può essere inserito a descrizione dall'operatore anche in questa maniera per un'estrazione verso il basso ok eccola qua niente è un accessorio questo fodero che permette molta semplicità come potete vedere guardate va una volta messo non viene via con l'attacchio a molle guardate veramente pazzesco bene ragazzi tanto per farvi capire una cosa bene però io legaci non me l'attacco eccolo qua vedete ragazzi tanta tanta roba ecco ecco il suo compito vedete ecco il suo compito semplice pronto all'uso tacchi secondo me se la razza ha fatto un lavoro particolare per tutti gli operatori militari o per chi deve avere un coltello da difesa backup combat secondo ma qua non dà fastidio a nulla è leggerissimo o anche cintura cioè si parla di comunque veramente pazzesco bene siamo al dunque come c'è la manda extrema razio come mi è arrivato ovviamente questo è un regalo nel fatto stefano però è nuovo niente ha fatto il nuovo vediamo la filatura di fabbrica come ok ciao via ragazzi che a volte si sente parlare ma lo ritrovate anche io a volte che la filatura dell'estrema razio non è a volte delle migliori eccetera ma ora è un periodo che invece la stanno curando molto e molto molto ragazzi e ovviamente anche posto di comprativo lo usate a chi piacciono i combat tattici questo è uno di quelli che forse fra più ambiti fra i più umaneggevoli fra veramente bello mi piace mi piace davvero c'è anche la versione black e anche la versione più piccola da 10 centimetri di lama questa è quella più grossa che aveva 11 quasi 12 11.8 di lama niente sono molto molto contento molto bello questo coltello qua qui finisce la recensione del scout 2 ringrazio tutti un abbraccio bimbi e vi mando a un prossimo video ciao dai ragazzi